non era assolutamente facile che abbiamo incontrato una delle compagini secondo me più forti del una delle più forti tutti giovani e molto molto preparati e come gruppo ci siamo compattati e abbiamo cercato di dare il meglio per portare in porto questa partita eravamo tutte e due squadre a cinque falli ma comunque tutte le partite in questo campionato di c1 si gioca si si vincono si perdono negli ultimi tre minuti e abbiamo sofferto ma alla fine l'abbiamo portata in porto dalla nostra parte e per ora facciamo partita dopo partita poi ci prendiamo quello che a fine campionato ci siamo meritati e la società sta lavorando per per cercare il nuovo mister in settimana penso che si verrà era fatto il nome del mister